Le aree interne della Sicilia al centro dell'attenzione per una strategia di rilancio delle zone rurali e delle eredità culturali del territorio. E' questo l'obiettivo dell'IRPAIS, Istituto di Ricerca e Promozione delle Aree Interne della Sicilia, organizzatori insieme al Comune di Montedoro e Stargeo di un importante evento che si è svolto presso l'Osservatorio Astronomico di Montedoro, con un incontro dal titolo Perché andare su Marte? Successi e fallimenti in 50 anni di esplorazione spaziale, che ha visto relatore d'eccezione per la prima volta in Sicilia il professore John Robert Brucato, astronomo e astrobiologo dell'INAF, Osservatorio Astrofisico di Arcetri e docente dell'Università di Firenze. Brucato è coinvolto in molte delle principali missioni spaziali internazionali alla ricerca della vita del Sistema Solare, a cominciare da ExoMars ed è componente dei board dell'Agenzia Spaziale Italiana, ASI, Europea, ESA e della NASA. Nella gremita sala congressi dell'Osservatorio, dopo i saluti del sindaco di Montedoro Federico Messana, del direttore dell'Osservatorio Marcello Frangiamone e del presidente dell'IRPAIS Fabiola Safonte, il professore Bucato ha affascinato i numerosi partecipanti che hanno raggiunto Montedoro da diverse località della Sicilia affrontando numerosi temi. Dall'evoluzione e abitabilità del Sistema Solare all'origine della vita, dalla storia delle missioni spaziali alle principali figure di riferimento, dando anche anticipazioni sui futuri scenari della ricerca e rispondendo alle numerose domande poste dal pubblico competente e motivato. Grande soddisfazione per gli organizzatori dell'evento che, visto l'enorme interesse riscontrate e il successo in termini di pubblico presente, sono intenzionati a proseguire il ciclo di incontri denominato Paesaggi, Cultura e Identità, già avviato dall'IRPAIS con l'iniziativa di presentazione pubblica organizzata in novembre dedicata al turismo sostenibile al cui interno è stata promossa la manifestazione appena conclusa. Il successo di pubblico, ha detto il professore Brucato, dimostra il grande interesse verso temi che da sempre hanno catturato l'attenzione dell'uomo, come la ricerca di segni di vita nello spazio. È stata una grande emozione vedere una sala gremita e attenta di adulti e bambini, ma ancora di più poter rispondere alle innumerevoli domande, tutte precise e appropriate. Iniziative di questo tipo sono lodevoli anche perché possono fungere da stimolo alle nuove generazioni. Tra i bambini presenti in sala ci potrebbe essere anche il futuro astronauta che un giorno andrà su Marte, chissà. È stato un piacere e un vero onore portare i recenti risultati dell'esplorazione spaziale su Marte e della ricerca astrobiologica nella nostra realtà. Siamo fermamente intenzionati a rafforzare l'impegno scientifico dell'osservatorio con ulteriori collaborazioni con enti e istituti astrofisici, dice il direttore dell'osservatore Fran Giamone. Iniziative come questa, ha aggiunto il sindaco Messana, dimostrano come anche nei piccoli comuni possano realizzarsi eventi di spessore culturale e scientifico in grado di ridare centralità anche a territori come i nostri. Come istituto, conclude la presidente IRPAIS Fabiola Safonte, ci faremo interpreti della necessità dei territori e delle aree interne di tornare protagonisti della vita economica, sociale e culturale della Sicilia attraverso ricerche e iniziative a livello scientifico e divulgativo per favorire la partecipazione delle comunità locali in direzione di uno sviluppo sostenibile.